ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video oggi siamo qui dove vi farò vedere un metodo come minare gratuitamente delle cripto valute allora vedete ho appena iniziato non so praticamente che video andrò a fare ho visto che ci sono delle persone che hanno avuto veramente veramente tanti risultati su youtube americani youtuber americani praticamente e quindi ho deciso di portarlo quindi non è più un metodo a scopo informativo diciamo è un metodo può funzionare e non ma praticamente io ho visto che funziona quindi ho deciso di portarlo non l'ho mai provato come già detto lo andremo a provare ora ora mi sono praticamente registrato infatti questo qui sono io qui ci dovrebbero essere pieno di schede mani allora praticamente noi potremo grazie a questo gioco andare a minare bitcoin dogecoin ethereum e questa cripto qui che sarebbe praticamente la cripto diciamo del gioco quindi praticamente con questo noi possiamo andare a comprare le schede per migliorare la potenza ecco io praticamente ho fatto tutta la mia potenza del computer per quanto riguarda i dogecoin quindi tralasciamo bitcoin e roba del genere ma i dogecoin quindi praticamente sono valutati poco e quindi c'è molta più possibilità di andare a guadagnare molto più velocemente il fatto è che possiamo anche prelevare con coinbase quindi praticamente possiamo spostare le nostre cripto valute per quanto riguarda questo gioco e mandarle su coinbase quindi da lì praticamente poi diventano prelevabili e lascio il link di coinbase e il link del video in questione sotto in descrizione quindi potete ben capire che è un metodo di guadagno gratuito ovviamente ci dovete giocare un pochettino se non sbaglio esiste anche l'applicazione del telefono quindi può praticamente potete anche giocare a tempo perso quando non avete nulla da fare quindi come potete ben capire è diciamo un discreto metodo di guadagno passivo passivo allora qui praticamente la potenza è questa ho fatto copia incolla andremo a vedere quanti sono bitcoin euro ok io praticamente ho appena iniziato e ho praticamente fatto 39 centesimi nel giro di manco quanto è iniziato questo video 4 minuti quindi già fatti tipo 39 centesimi senza niente però prima delle cripto valute bisogna acquistare gli scaffali per tenerle come andremo a guadagnare praticamente all'inizio in questo gioco bisogna andare qui su games e fare praticamente dei mini giochi che ci porteranno dei guadagni ad esempio qui beh questo qui è semplice vi faccio vedere a scopo informativo fate conto che la prima volta che sto provando questo metodo dovremo all'inizio ovviamente a fare delle dei mini giochi per quanto riguarda guadagnare direttamente all'inizio e qui ho fatto 360 punti la potenza è 0 ok qui praticamente 360 gain power praticamente ora sta portando la potenza sta aumentando la potenza del computer se non sbaglio sta dando anche dei soldi ok praticamente ci ho aumentato la potenza del 360 eccolo qui la mia potenza quindi come potete ben capire giocando all'inizio in questi mini giochi potete guadagnare potenza qui volete acquistare le schede ovviamente ci sono quelle che sono costosissime ok qui praticamente possiamo con questi 500 possiamo possiamo convertire se vogliamo acquistare dei roller token praticamente la moneta del gioco per andare ad acquistare le schede per minare qui nel frattempo la potenza diciamo che aumentata qui bisogna prendere l'esperienza quindi potete ben capire che è un metodo carino per guadagnare qui praticamente se andiamo a giocare nove partite e le vinciamo aumenterà anche il livello del computer quindi praticamente la cosa è giocare ovviamente c'è l'app per il telefono comunque ragazzi per questo video è tutto questo qui è solamente a scopo scopo informativo quindi può funzionare e non io con i miei occhi ho visto che su youtube ci sono persone che vanno a guadagnare veramente veramente tanto qui praticamente per prelevare basta andare qui sul portafoglio qui praticamente posso pure essendo prelevare questi bitcoin ma io li lascio tanto solamente ho fatto questo video solamente per farvi vedere questo metodo di guadagno quindi li lascio qui ritornerò sicuramente a fare un video futuro per scoprire se funziona o meno per oggi è tutto vi invito a iscrivervi al canale di attivare la campanellina e le notifiche per non perdervi ulteriori video del genere noi ci rivediamo domani con un prossimo video ciao